Una cerimonia informale ma molto emozionante. Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, questa mattina ha ricevuto dal prefetto di Salerno, Gerarda Maria Pantalone, il titolo di città e il nuovo stemma di Nocera Inferiore. Un decreto che arriva dopo 60 anni. Abbiamo avuto la soddisfazione storica di ritirare questa mattina presso la prefettura di Salerno, dalle mani di sua eccellenza Gerarda Maria Pantalone, il prefetto di Salerno, con il vice prefetto Vicario, il dottore Forlenza, la nuova araldica e il decreto del Presidente della Repubblica che conferisce al comune di Nocera Inferiore per la prima volta il titolo di città. Dopo 60 anni. Nel dopoguerra era stato deliberato dal Consiglio Comunale di Nocera la richiesta e la procedura per avviare l'iter per ricevere questo titolo che spetta al comune di Nocera per storia e per destino, ma che poi non aveva avuto mai un completamento. Le procedure si sono riavviate, nel 2012 si sono completate all'atto del mio insediamento, dopo pochi mesi dal mio insediamento e poi finalmente abbiamo avuto la possibilità di completare ecco finalmente questa procedura e Nocera oggi con decreto presidenziale a tutti gli effetti città. Grazie a tutti voi statiorsi!